Salve amici dell'incazzato.it, oggi siamo di nuovo insieme ad Antonio Pariante, presidente del Comitato Portosalvo, chiede a segnalarci un'importante questione relativa alla chiesa di Sant'Agostino a Materdei. Signor Pariante, che cosa sta succedendo? Accade che a Napoli, città dell'arte, torniamo dalle vacanze e scopriamo che vogliono chiudere una chiesa. Ma apparentemente sarebbe una cosa che non interessa a nessuno. Non è così se appunto diciamo che Napoli è una città dell'arte, in quanto tale se perde una chiesa ci dobbiamo chiedere per chi e cosa sta accadendo. Bene, noi del Comitato Portosalvo, che da sempre ci occupiamo delle chiese di Napoli, che sono una risorsa straordinaria della nostra città, siamo subito intervenuti per cercare di capire che cosa stesse accadendo. E accade praticamente che c'è un prelato molto anziano, che ha più di 90 anni, padre Celestino, che va via per ovvi motivi di limiti di età. E questo sembrerebbe il motivo che indurrebbe l'amministrazione ecclesiastica, quindi la curia, a chiudere la chiesa e via. Insomma non ci sarebbero soluzioni. Ci sembra una situazione un po' assurda, paradossale. Si fa tanto parlare delle chiese di Napoli che si debbono riaprire, insomma di tanti progetti per il centro storico, e poi scopriamo invece che addirittura si voglia chiudere una chiesa così importante come quella di Sant'Agostino. Secondo lei è possibile che non ci siano sostituti per questo prelato? No, assolutamente. È impensabile che non esistano prelati e quindi sacerdoti sufficienti per lasciare aperta la chiesa di Sant'Agostino e soprattutto per riaprire le chiese che sono sbarrate a Napoli, che sono oltre 200. Quindi c'è una contraddizione anche in questo. Non è possibile che con un numero così grande di chiese, 500 e passa, che supera quella di Roma, abbiamo quasi la metà delle chiese chiuse e abbandonate e non abbiamo poi un sufficiente numero di sacerdoti che possa intervenire in questo problema. Qualcosa non torna con i numeri. Ciò rappresenta anche un paradosso con i piani del Cardinale Sepe, è giusto? Sì, è una contraddizione grande. Su Eminenza si era impegnato, abbiamo letto sui giornali per un lungo tempo appunto le sue intenzioni, il suo progetto di intervenire direttamente affinché queste chiese di Napoli potessero riaprire mediante un progetto di comodato d'uso e alla fine sembra che nulla accade e peggio ancora si sente parlare di una chiesa che deve chiudere, nemmeno questo quadro. Quindi si teme un nuovo caso Girolamini? Sì, c'è il rischio, l'abbiamo detto, lo stiamo dicendo sulla stampa, in televisione, sui giornali, c'è il rischio che se venisse chiusa la chiesa di Sant'Agostino degli Scalzi, una chiesa che ha caratteristiche più o meno simili a quella famosa di Girolamini, una chiesa del 1500, anch'essa dotata di una bella, anche se piccola, biblioteca ricca di manoscritti e quindi di libri che risalgono al 1500 e se viene chiusa significa che rischia di far ripetere quel brutto caso avvenuto a Girolamini dove tutto è stato saccheggiato. Noi quindi pensiamo che sia bene riflettere su questa opportunità per evitare una nuova gogna del genere. Quindi infine vuole appellarsi alle istituzioni? Assolutamente, lo stiamo già facendo, abbiamo chiesto alla Curia, alle sovrintendenze, quella del Polo Museale, quindi quella di Palazzo Reale, di intervenire sulla questione per redimere questa problematica perché certamente si potrà trovare un sacerdote per garantire l'apertura della chiesa, diversamente ci sarà la possibilità di mantenerla aperta magari affidandola a un'associazione insomma perché la finalità ovviamente non può e non deve essere solo quella liturgica perché le chiese in quanto tale da sempre, dice la storia, condividono il territorio anche per attività di assistenza e di socialità e questo può essere sicuramente un motivo giusto da considerare per lasciare aperta Sant'Agostino. Grazie mille. Grazie a voi.